Ciao a tutti, in questo episodio dell'inventario di Player 2 Lighting parliamo per la prima volta di libri fotografici, dando un'occhiata alla guida completa alla fotografia scritta da Chris Gatkum ed edita in Italia dalla Contrasto. Come vedete il libro è piuttosto massiccio, ma non dovete spaventarvi visto che in realtà è pieno di immagini e questa è una cosa ottima per un manuale di fotografia che mostrano, ogni immagine dimostra anzi quello che viene spiegato nel capitolo e i vari argomenti. Il prezzo del libro si aggira sui 30 euro e per un libro così grande di questa fattura credo che sia un prezzo molto buono considerando che è un libro che effettivamente parla di tutti gli argomenti base della fotografia sotto l'aspetto soprattutto tecnico, quindi non considerate questo come un libro di ispirazione creativa visto che non parla dello stile ma è più che altro un manuale appunto per chi si sta avvicinando alla fotografia e vuole avere un punto di riferimento un po' per tutti quanti gli argomenti. Questo libro mi ha accompagnato nelle scorse settimane sugli autobus e anche alle pause in ufficio e nonostante siano concetti che già conosco ho trovato molti spunti interessanti e alcune curiosità che non sapevo che hanno reso questo libro molto interessante e molto divertente da leggere. Ma il motivo principale per il quale ho deciso di leggere questo libro e recensirlo su Player Two Lighting è il fatto che sia una guida molto nuova. Infatti molti dei libri di riferimento che ho e che continuo a consigliare molto spesso sono un po' vecchiotti e su alcuni concetti si basano sulla tecnologia al tempo in cui sono stati scritti e quindi non sono esattamente 100% attuali. Invece la cosa buona di questo libro è che è stato scritto recentemente e quindi è già a conoscenza di tutte quante quelle rivoluzioni che ci sono al momento come per esempio le mirrorless o le macchine fotografiche che possono scattare ad altissimi ISO. Una caratteristica di questo libro è il fatto che sia molto abbordabile, è pensato per chi si sta avvicinando alla fotografia e non lo aggrisce con troppi tecnicismi o troppi concetti complessi. Insomma in tutto quanto il libro accompagna il lettore in maniera molto gentile ai concetti sulla fotografia e per esempio è un esempio anche nell'introduzione la parte storica della fotografia invece di essere un capitolo con una storia scritta come un libro di storia normale è solamente un diagramma cronologico in cui sono stati presi vari eventi nel corso della storia della fotografia ed effettivamente sono piccoli concetti complessi piccole curiosità anche delle varie case produttrici e dei vari sviluppi tecnologici che sono anche utili da sapere come cultura generale fotografica. Andando a continuare a leggere il libro vediamo che parte dalle basi della fotografia quindi parte dall'esposizione spiegando poi tempo di scatto, apertura del diaframma, ISO e tutti gli argomenti sono dimostrati con una grande quantità di immagini e una cosa che è simpatica di questo libro è che i piccoli riquadri che vediamo spesso a bordo pagina in realtà contengono molte informazioni interessanti e ho scoperto io personalmente che ero già a conoscenza delle basi della fotografia ho scoperto molte informazioni interessanti soprattutto da questi piccoli riquadri. Il libro parla quindi delle basi della fotografia arrivando poi argomenti un po' più complessi come la profondità di campo, argomenti un po' più legati anche allo stile creativo come la composizione e passando fino alla post produzione e con alcuni capitoli anche sulla fotografia analogica che sono molto interessanti. Lo stile di scrittura del libro è molto piacevole da leggere, non è in nessun modo pesante o noioso, l'unico appunto che posso fare è il fatto che almeno nella traduzione quando l'autore parla ai lettori usa il singolare quindi dice per esempio se vuoi scattare una fotografia spingi questo tasto mentre avrei preferito tendenzialmente a me piace di più quando in questi casi si usa il plurale ovvero se volete scattare una fotografia spingete questo tasto tendenzialmente secondo me per manuali tecnici o anche come video di fotografia è più naturale utilizzare il plurale ma non è assolutamente un problema è soltanto una questione stilistica, un mio gusto personale quindi potrebbe non essere un problema per voi ma per quanto riguarda invece lo stile di insegnamento del fotografo che ha scritto il libro sono assolutamente d'accordo sul suo metodo di insegnamento e sulle sue idee infatti molto spesso ripete il fatto che tutte le regole che vengono spiegate non sono effettivamente delle regole che bisogna seguire al 100% per ottenere belle fotografie. La stessa esposizione non è detto che esporre una fotografia correttamente a livello tecnico sia la maniera giusta per ottenere la fotografia che ci piace. Quello che dice molte volte l'autore è che dobbiamo scegliere noi come comporre, esporre, come realizzare le fotografie scegliendo sul nostro gusto e sul nostro stile. Quindi anche la composizione che in questo libro è spiegata in maniera molto ordinata e molto bella anche lì dice che sono soltanto linee guida che una volta che conosciamo possiamo decidere di seguire o meno. Le lezioni sono ogni tanto spezzate dagli approfondimenti masterclass dove fotografi professionisti di vari settori parlano della loro esperienza legata al settore dove lavorano dando consigli e condividendo l'esperienza sul campo che hanno maturato e questi sono delle introduzioni piacevoli durante la lettura perché danno il tempo di un po' metabolizzare gli argomenti che si sono letti fino a quel punto e soprattutto danno alcuni spunti interessanti anche come i diversi tipi di fotografie effettivamente il risultato che possiamo cercare dopo aver studiato la fotografia. Ci sono anche alcuni capitoli fai da te, alcuni progetti fai da te più che altro che sono molto divertenti e mi sarebbe piaciuto vederne un altro po' perché sono quel tipo di progetti che ritagliano un po' di tempo a livello manuale sul lavorare sulla fotografia e effettivamente sono quelle cose che dopo aver fatto questo tipo di progetti i concetti tecnici della fotografia dietro a questi progetti li ricordiamo molto meglio. Per quanto riguarda la parte di postproduzione è ben bilanciata, ci sono alcuni libri che ho letto in passato che cominciano a parlare troppo di postproduzione in maniera un po' troppo approfondita cosa che facilmente diventa antiguata visto che i programmi si rinnovano in fretta, mentre qui tendenzialmente vengono spiegati anche per quanto riguarda la postproduzione più che altro i concetti, un po' il flusso di lavoro che c'è dietro alla parte di postproduzione accennando ad alcuni problemi pratici più incombenti quando si fanno fotografie, per esempio come ridimensionare le immagini in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare e parla dei formati e di alcuni problemi a livello basilare sui tipi di fotografie che possiamo scattare. Una cosa che mi è piaciuta è che dei vari interventi di postproduzione, per esempio anche su Lightroom o i programmi di conversione dei file RAW, quando spiega alcuni valori come per esempio la saturazione, mostra la stessa fotografia a diversi livelli di intensità di quell'effetto ed è una maniera molto pratica di mostrare le cose che subito può rimanere in mente. Per quanto riguarda l'edizione, la stampa è di ottima qualità, l'impaginazione e tutto quanto scorre molto facilmente, l'unica cosa che dovranno correggere nella prossima edizione sono tre piccoli rifusi che ho scovato all'interno del libro, di cui due di quali mi sono anche segnato le pagine, ma per tutto il resto il libro è perfetto e lo dimostra anche il fatto che nonostante sono concetti che conosco già abbastanza bene, è stato piacevole per me rileggerlo, insomma mi ha fatto compagnia per molte settimane. Il libro lo consiglio a chi si sta avvicinando alla fotografia e vuole avere un riferimento per i vari argomenti per poter approfondire e fare un po' mente locale di tutti gli argomenti, perché effettivamente quando si conoscono gli argomenti all'interno di questo libro, praticamente si conosce tutto quello che serve per fare le fotografie. L'unica cosa che sento manca un po' in questo libro è una parte di esercizi, quindi il libro non ci guida su come esercitarci sui vari argomenti, quello che dobbiamo fare è scegliere noi ogni tanto di fermarci e ripetere scattando le fotografie i vari concetti che sono stati spiegati, o allo stesso modo può essere un ottimo testo da accompagnare per esempio a un corso di fotografia di persona, oppure a dei video tutorial come per esempio quelli di Player 2 Lighting, dove può essere comodo avere scritto su carta alcuni concetti per avere, come ho detto, una lista per fare in mente locale. Il libro comunque lo consiglio vivamente, è un ottimo investimento e secondo me anche il prezzo, visto anche la dimensione del libro e la qualità, è assolutamente abbordabile. Se vi interessano altri libri di fotografia e soprattutto che li recensisca durante i video di Player 2 Lighting, scrivetemi qui sui commenti, oppure come sempre potete scrivermi per email o per tutte le altre forme di contatto e social network. E inoltre, se siete interessati ad altre fonti fotografiche, questa volta dalle quali ho studiato in passato, potete andare sull'articolo che scrissi tempo fa su player2.com e che linkerò qui sul video nella descrizione, dove ho riportato una lista di fonti fotografiche dalle quali ho studiato e questi sono sia libri, sia siti che continuo a consultare, sia canali di YouTube che video tutorial da comprare e da poter guardare al computer. Per questo episodio è tutto, grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo!